Ha fatto discutere il servizio che abbiamo dedicato all'iniziativa varesina di Fratelli d'Italia, a prendersela in particolare Gaetano Iannini, organizzatore di quell'evento nelle vesti di presidente di Noi Repubblicani. Nel commento a margine di quel servizio consideravamo l'iniziativa una specie di siluro politico a Luca Marsico e alla sua associazione Insieme Futuro, di cui peraltro Iannini è cofondatore. Ora, il diretto interessato smentisce, radicalmente indignato, ripetendo che quell'iniziativa era pensata per unire e non per dividere. Per carità, noi ne prendiamo atto, ma come diceva quello a pensare male si farà anche peccato, ma spesso ci si azzecca, anche perché insomma l'esperienza fa testo e il percorso politico di Iannini non è proprio un inno alla coerenza. Riassumiamolo brevemente, fiero sostenitore del centro-destra si candida alle comunali col centro-sinistra, viene eletto nella lista Galimberti, poi esce dalla lista Galimberti, entra nel gruppo misto, insieme a Luca Marsico fonda l'associazione Insieme Futuro, che si propone di aprire una nuova area all'interno del centro-destra e alternativa a quella Forza Italia dominata da Nino Caregnello. Oggi lo ritroviamo regista di un'iniziativa che appunto sembra spingersi in direzione contraria e che in prospettiva potrebbe rosicchiare consensi al nuovo soggetto politico di Luca Marsico, del quale, lo ripetiamo, Iannini è ancora il vicepresidente. Siccome lui insiste però nello smentire questa lettura, noi non abbiamo motivo per dubitarne. Allora ci chiediamo che cosa è successo quel giorno al caffè Zamberletti? Ed eccoci arrivati al punto, eccoci arrivati alla foto del giorno, perché l'impressione è che Nino Caregnello abbia catturato politicamente Iannini e la sua iniziativa, iniziativa che agli occhi di chi mastica la politica in quel di Varese è subito diventata caiannelliana. Del resto, se è vero che Iannini è, leggo testualmente, il Marco Polo della politica locale, instancabile, navigante in cerca di un porto sicuro, definizione non mia, bensì di Roberto Puricelli, esponente di Forza Italia con uno spiccato senso dell'umorismo, è altrettanto vero che Nino Caregnello è un politico navigato, esperto, scaltro, che però vive almeno tre difficoltà. Primo, è a corto di uomini. Secondo, è in un partito in crisi di consensi. Terzo, è fiaccato ormai da tempo dalla condanna subita in Cassazione. Quindi lui ha tutto l'interesse di mettere il cappello su un'iniziativa che ha il sapore della novità, come quella di Iannini. Il problema è, a lei, caro Iannini, quel cappello non andrà un po' stretto.